Buongiorno a tutti. Benvenuti alla Sala Sao Paolo. Signor Laerte dos Santos. Un'ottima prova. Scusate. Mi parlava di un lavoro in una favela per insegnare musica ai ragazzi. Sai, un progetto per una ONG. Ragazzi, vi presento Laerte, il vostro nuovo insegnante. Allora, suoniamo un tema di benvenuto per Laerte? Uno, due, tre, quattro. Credo che dovremmo iniziare praticamente da zero. Tre, quattro. Su, forza, sveglia, sveglia, sveglia. Come sta andando a scuola? Fermi, 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 basta, basta adesso. Tu stai esagerando. Fanno l'ora. C'è un ragazzo che è impressionante, incredibile. Non puoi suonare il violino, né andare a lezione. Come facciamo senza di te? Troveremo il modo, suona. Vai, vai! Ma la quella merda, cazzo! Ho suonato benissimo. Dovevi puntarmi la pistola alla tempia. Magari così avrei superato le audizioni. La sua sposa è la prima partita. La sua sposa è un ragazzo di te. Per il team. Per la terra, cazzo. 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 Grazie.